La sfumatura aromatica mi salta in mente l'origano legatissimo a questo tipo di aroma di profumo perché mi porta direttamente alla mia infanzia, mi viene in mente immediatamente le fruschette, le frinze dove mamma schiacciava in estate questi numeri freschi e poi basilico, origano, olio. Mi riporta subito immediatamente alla condivisione, quindi alla tavola, allo stare insieme, alla condivialità, alla gioia appunto di stare tutti intorno al tavolo a sentire il profumo dell'estate, l'origino dell'estate e la parte aromatica che ti riporta sicuramente dalla condivisione di ogni gioia possibile. In cucina le note aromatiche date da buona parte delle spezie chiaramente danno appunto delle sfumature che sottolineano appunto un carattere, un modo di fare, molte volte anche una provenienza, cioè un territorio, quindi sicuramente le aromatiche danno a noi la possibilità di raccontare una storia, da dove veniamo è molto importante questo perché va a sottolineare le nostre origini e il nostro modo di essere in tavola, quindi ci racconta esattamente una storia italiana.